Ok, oggi vediamo alcuni termini sui limiti, in particolare con uno di questi come applicazione calcoleremo un limite notevole, che si tratta di una forma indeterminata di tipo non algebrico, i limiti di seno di x su x se x tende a 0. E se ci riusciamo, se siamo nei tempi, useremo quei limiti notevole, lo applicheremo per calcolare l'area del centro, con il metodo di esaustione. Il sfrutto, così velocizziamo un po' qui i tempi, una presentazione che avevo già fatto a suo tempo, il primo tema che vediamo è quello detto del confronto. Immaginiamo di avere tre funzioni, f di x, g di x e h di x. E in almeno un intorno di un particolare punto x con 0 vale questa diseguaglianza, g di x è minore o uguale di f di x che è minore o uguale di h di x, cioè le funzioni sono ordinate. La più piccola è g, la più grande è h e f è una funzione che ha valori compresi tra le due, tra g ed f. Se inoltre per x che tende allo stesso x con 0 di prima, sia g che h convergono e convergono allo stesso limite, cioè se per dirla in altre parole la più piccola e la più grande sono entrambe funzioni convergenti e il loro limite è lo stesso, sempre per x che tende all'x con 0, allora necessariamente quella che sta tra g ed f è convergente e converge allo stesso limite. Forse si può capire meglio graficamente, immaginate qui di avere le tre funzioni, g è quella in blu, h è quella in verde e f è in rosso. Qui vedete che se il nostro punto x con 0 fosse questo, in tutto un intorno di x con 0, g è quella più piccola, h è quella più grande e h è compresa tra la prima e la seconda. Se, ripeto, si chiede che la funzione più grande e quella più piccola per x che tende all'x con 0 convergono allo stesso limite, allora possiamo concludere che anche la funzione f, compresa tra g ed h, converge anche questa allo stesso limite. si chiama teorema del confronto, è una tecnica molto utile per calcolare limiti che altrimenti non si potrebbero calcolare. Lo ripeto, se nel meno un intorno di un determinato punto vale questo ordinamento di tre funzioni diverse e la più piccola e la più grande sono entrambi convergenti allo stesso limite, anche quella media, per capirci, quella compresa tra le altre due, converge allo stesso limite. Per mostrarvi un'applicazione di questo, consideriamo cosa succede, quanto vale il limite di questo rapporto del seno di x fratto x con x che tende a 0. il seno di 0 è 0, il denominatore 0, questa è una forma indeterminata del tipo 0 su 0, però non è il tipo algebrico, perché il seno di x non è una funzione algebrica, è una funzione trascendente, quindi qui non possiamo usare le tecniche che abbiamo visto in precedenza per risolvere questa forma indeterminata. Dovevo usare un'altra tecnica, la tecnica che si usa è proprio quella del termine del confronto. Intanto, per prima cosa, osserviamo che la funzione f di x, sen x su x, è una funzione pari, cioè se cambio segno alla x, la funzione mantiene lo stesso valore. Per farlo calcoliamo f di meno x, quindi cambio segno sia al seno che al denominatore, il seno di meno x è uguale a meno sen x, quindi due meni si semplificano, la funzione è quella che avrei se non avesse cambiato segno alla x. Di conseguenza è una funzione pari. Questo ci aiuta perché? Perché se è pari è sufficiente considerare ad esempio il limite destro, perché il limite sinistro, se esiste ed è finito, sarà lo stesso. Quindi considero il limite per x che tende a 0 da destra di sen x su x. Andiamo a utilizzare il cerchio goniometrico. Immaginate una circonferenza di raggio unitario, quindi OA vale 1 o C vale 1 e prendiamo il punto C individuato dall'angolo x, quindi A, O, C misura x in radianti e quindi proiettiamo C sull'asse delle x, delle ascisse, quindi questo segmento CB, essendo il cateto nel triangolo rettangolo C, A, C, B, C, O, B, C, il cateto opposto all'angolo x, questo misura il seno di x. Perché? Ricordate che il seno dell'angolo è il cateto opposto all'angolo diviso l'ipotenusa, l'ipotenusa vale 1, quindi il cateto verticale misura proprio sen x. mentre se prendo la retta che passa per A tangente alla circonferenza, adesso è OA che vale 1 e quindi il cateto opposto a x vale OA per la tangente dell'angolo. Di conseguenza essendo la OA 1, il segmento DA misura proprio tangente di x. Tra questi due segmenti consideriamo l'arco di circonferenza CA e vi ricordate la definizione dell'angolo irradiante, l'angolo irradiante è il rapporto tra l'arco di circonferenza diviso il raggio. Quindi qui se il raggio è 1, la misura dell'arco CA vale proprio il valore x dell'angolo irradiante perché sarebbe x per R, se R vale 1, AC misura 1. D'accordo? Per come abbiamo ottenuto C, B, AC, l'arco AC e AD è abbastanza intuitivo dalla figura che il seno di X, quindi questo segmento, ABC, è più piccolo dell'arco CA che è più lungo, che è più piccolo di AD. Quindi abbiamo tre funzioni di X che hanno l'ordinamento che ci serve nell'intorno di 0. Seno di X è minore di X che è minore di tangente di X. Quindi abbiamo tre funzioni ordinate e quindi possiamo applicare il termo del confronto. E siccome per X che tende a 0 il seno è positivo, possiamo anche dividere tutte e tre le funzioni per seno X. Quindi se lo faccio a sinistro tengo seno X su seno X che fa 1. Nella funzione media ho X diviso seno X e a destra ho la tangente che scriverò come seno X fratto coseno X. Quindi seno si semplifica e ho 1 fratto coseno. A questo punto osservo che a sinistra è una funzione costante, quindi lì è banale dire che converge a 1. La funzione a destra, 1 su coseno X, non ha più la forma determinata perché il numeratore è 1, il denominatore se va a 0 tende a 1, quindi 1 su 1 fa 1. Quindi la funzione a sinistra e quella a destra sono entrambi convergenti allo stesso limite. e quindi posso applicare il termo del confronto, per cui anche la terza funzione X su sen X sarà convergente e il suo limite sarà uguale a quello delle altre due, quindi 1. Quindi per lo stesso motivo se faccio la funzione inversa sen X su X, anche in quel caso tengo 1 perché avrò l'inverso di 1 che è 1 stesso. Ecco che in questo modo, applicando questo particolare teorema, abbiamo risolto la forma determinata. Quindi X e sen X, dato che il loro rapporto è un numero finito, sono come si dice infinitesimi dello stesso ordine, dello stesso tipo, cioè tendono a 0 nello stesso modo. Questo è quello che si chiama limite notevole. Perché notevole? Perché viene usato in tantissimi contesti. In particolare un esempio di applicazione di questo limite è il calcolo della superficie del cerchio. Per farlo si utilizza un metodo piuttosto antico, introdotto da Iron, quindi è un po' utilizzato anche da Archimede soprattutto. Che è questo. Immaginiamo di avere la nostra circonferenza e di approssimarla con un poligono regolare di un numero sempre crescente di lati. Se io aumento il numero di lati, quindi, non so quanti ne ho fatti, ma insomma, man mano che aumento il numero di lati diventeranno sempre più piccoli e il poligono iscritto nella circonferenza approssimerà sempre meglio la circonferenza stessa. E quindi potrò ottenere la misura dell'area del cerchio, immaginando di far tendere il numero di lati a infinito. Quindi, tecnicamente, quello potremmo considerare la circonferenza come un poligono regolare avendo un infinito numero di lati. Quello che i filosofi definirebbero un infinito in atto, cioè un infinito reale, non in potenza. Quindi anche in questo caso un infinito in atto esiste. Allora, immaginiamo di prendere un tot numero di lati, indifferente quale, e di suddividere, di scomporre il nostro poligono regolare contenuto nella circonferenza, cioè iscritto nella circonferenza, in n triangoli che per loro natura sono triangoli isosceli, dato che i due segmenti OA e OB sono due raggi. Se l'angolo alla circonferenza è, come è facile vedere, l'angolo giro, allora l'angolo del vertice di ciascun triangolo sarà l'angolo giro 2π diviso E nel numero di lati, il numero di triangolini piccoli con cui abbiamo suddiviso la circonferenza. Mentre i raggi OA e OB, i due uguali a raggi. Individuiamo con A piccolo con N l'area di ciascun triangolo. Come possiamo calcolare? Beh, possiamo utilizzare il teorema dell'area che abbiamo visto in trigonometria l'anno scorso. L'area di un qualunque triangolo è data dal semiprodotto dei lati per il seno dell'angolo compreso tra questi due lati. Quindi possiamo prendere la metà di il prodotto dei due lati, sono i due raggi, OA che è R, OB che vale R, per il seno dell'angolo compreso tra O, A e OB che è il nostro αN. Quindi l'area di ciascun triangolino piccolo è un mezzo di R alla seconda per il seno di 2π su N. Ok? Quindi se abbiamo l'area di un triangolino piccolo, per avere l'area di un intero poligono basta moltiplicarlo per il numero dei triangoli, che è N. Quindi l'area totale è N volte A piccolo con N. E quindi N volte un mezzo di R quadro per il seno di 2π su N. Ok? Per ottenere l'area del cerchio non faccio altro per far tendere che colare a N quando N tende a infinito. Quindi faccio divergere il numero dei lati. E vediamo cosa otteniamo. Possiamo fare un cambio di variabile più comodo. Indichiamo con X l'angolo al centro, quindi 2π diviso N. Di conseguenza N sarà 2π diviso X. E quindi se N tende ad infinito, 2π su N tende a 0 e tende a 0 dal lato positivo perché l'angolo è un angolo ovviamente positivo. Quindi sostituendo, operando questa sostituzione al nostro limite, avremo che A, l'area del cerchio, che abbiamo espresso come il limite per N che tende ad infinito di un mezzo R quadro per N per il seno di 2π su N, diventa il limite per X che tende a 0 da destra, in mezzo di R quadro. Se abbiamo sempre al posto di N, devo mettere 2π su X. Nel posto di 2π su N metterò la nostra X. O però quella trasformazione che abbiamo visto prima. Qui 2 e 2 si possono semplificare, π ed R quadro posso portarli fuori dal segno di limite e mi rimane il limite per X che tende a 0 da destra di sen X su X, che abbiamo appena visto essere 1. Ecco che quindi l'area della circonferenza, del cerchio, è π per il raggio al quadrato, come conseguenza del limite notevole sen X su X per X che tende a 0. Ok? Tutto chiaro? Questa stessa tecnica, la tecnica di frammentare, fatemi tornare un attimo indietro, una figura con un contorno curvo in poligoni con contorni a segmenti, viene utilizzata nell'analisi, nel calcolo differenziale, quando si vanno a calcolare le aree racchiuse da funzioni nel piano cartesiano. È lo stesso principio. Le si frammenta in tanti rettangoli o rettangoloidi e si sommano le aree di questi infiniti rettangoloidi di area infinitesima. È quello che si chiama il calcolo integrale, che ha le sue radici proprio qui, nel metodo di esaustione. È un metodo antico, appunto. Archimede ha mostrato che uno può avere un'approssimazione comunque buona dell'area della circonferente, del cerchio, basta che prenda un numero di lati sufficientemente ampio, sufficientemente grande. Se non ci sono domande, vediamo, anche qui se possiamo velocemente, i prossimi teoremi. Il primo, forse, quello che andava forse per primo, è il termo di unicità. Il quale dice la seguente cosa. Immaginate di avere una funzione, y uguale a f di x, e che converga se x tende a x con 0. Quando questo succede, questa funzione non può avere più di un limite, cioè il limite quando esiste è uno solo. Se succede che la funzione f di x ha limite per x che tende a x con 0, che vale l, numero reale, questo numero è unico. non può avere più di un valore. Questo teorema si dimostra, faccio una dimostrazione molto semplificata, vi do l'idea base che c'è sotto la dimostrazione, che è quella, una dimostrazione per assurdo. Cioè, se non fosse vero, se si potesse ecceci più di un limite, quindi due limiti per esempio diversi tra loro, l1 e l2, cosa dovrebbe succedere? Beh, dovrebbe succedere che qualunque intorno io prenda di l2, la funzione, in un intorno di x con 0, ok, approssima l2. Quindi se x appartiene a un intorno di x con 0, la corrispondente f di x appartiene a un intorno di l2. Abbiamo visto, quando abbiamo fatto la verifica dei limiti, abbiamo visto questo come si mette in atto. Per lo stesso potrei dirlo di l1. Qualunque intorno di l1 io scelga, determina un intorno di x con 0, in modo tale che se x appartiene all'intorno di x con 0, f di x appartiene all'intorno di l1. Abbiamo visto a suo tempo che i numeri reali hanno una particolarità, una particolare proprietà, che è quella di separazione. Cioè, è un insieme di numeri separabili. Ho proprietà di Hausdorff, come l'ho chiamato quella volta. Cioè, se ho due numeri reali diversi, per esempio come l1 e l2, con l1 più piccolo di l2, posso sempre trovare almeno un intorno di l2 e un intorno di l1 tra di loro disgiunti. Cioè, che non hanno niente in comune, che sono separati. Ok? Quindi è sufficiente prendere un intorno sufficientemente piccolo di l2 e di l1 e quindi se x appartiene a x con 0, f di x non può appartenere ad entrambi gli intorni. Quindi appartiene o all'intorno di l1 o a quello di l2. Quindi il limite non può avere due valori diversi. Perché se lo avesse, f di x, quindi un intorno di x con 0, dovrebbe appartenere sia al primo intorno che al secondo. Ma tra di loro questi sono disgiunti. Non possono avere elementi in comune. Per cui, se il limite esiste, sicuramente è unico. Non ci può essercene più di uno. Ok? Molto bene. Questo grazie appunto alla proprietà di separazione dei numeri reali. Credo che questo sia. Vediamo che questo è il suo inverso. Il termine del segno ci sarà utile quando studieremo la monotonia delle funzioni. Immaginate di avere una funzione convergente. Quindi la nostra funzione y uguale a f di x che ha un limite l finito. Quindi per x che tende a x con 0, f di x converge a l, numero reale. E immaginate che il limite sia diverso da 0. Se è 0 il teorema non ci permette di dire niente, ma se è diverso da 0 o è positivo o è negativo. Ok? In quel caso, cioè se il limite è diverso da 0, allora esiste sempre almeno un intorno di x con 0 dove la funzione assume lo stesso segno del limite. Certo. Allora, se è una funzione convergente, cioè se vale questa scritta, quindi se la funzione ha un limite l finito non nullo per x che tende a x con 0, che ne so, metti che il limite sia 2. Faccio un esempio, un numero semplice. Ok? Positivo. Allora, se il limite è positivo, esiste sempre almeno un intorno di x con 0 all'interno del quale la funzione, quindi se x appartiene all'interno di x con 0, la funzione ha lo stesso segno del limite. Quindi se il limite è 2 ed è positivo, la funzione sarà positiva. Se il limite fosse meno 2, nel meno un intorno di x con 0, la funzione è negativa. Dire almeno un intorno significa che ce ne sono infinite, in realtà. Senti opportunamente. Quindi, detto in termini che più terra a terra non si può, se una funzione ha un limite convergente in un certo punto x con 0, allora se x è sufficientemente vicino a x con 0, cioè se approssima a x con 0, la funzione assume lo stesso segno del limite. Se è positivo il limite, sarà positiva la funzione, se è negativo il limite, sarà negativa la funzione. Ok? Questo si vede abbastanza semplicemente, anche qui abbiamo una dimostrazione molto semplificata, utilizzando proprio la definizione di limite. Se la funzione converge, allora si sceglie, un qualunque intorno io sceglia di L, quindi l'intorno centrato in L di raggio epsilon, determino un intorno di x con 0 di raggio delta, all'interno del quale, tolto al più x con 0 intersecato col dominio, la funzione f di x appartiene all'intorno di L, quindi sta tra L meno epsilon, L è il valore del limite, Epsilon raggio dell'intorno ed L più epsilon. Ok? Quindi per esempio se il raggio di L, l'intorno di L è sufficientemente piccolo, quindi se il raggio dell'intorno è più piccolo, per esempio del valore del limite, allora L meno epsilon è positivo. Se L è sufficientemente piccolo, questo numero è più grande di 0. E quindi se guardiamo la diseguaglianza a sinistra, avremo che L meno epsilon è più grande di 0, quindi 0 è più piccolo di L meno epsilon, che è inferiore di f di x. E quindi se questo numero è positivo, f di x è anch'essa positiva. Quindi posso scegliere un intorno opportunamente scelto, quindi basta che sia sufficientemente piccolo, e se il limite è positivo, la funzione è positiva anch'essa, in quell'intorno. Se il limite fosse negativo, mi ho assoluto la diseguaglianza di destra. Se L è negativo, è sufficiente che Epsilon in valore assoluto sia più piccolo di L, e questo numero è negativo. E quindi ho la diseguaglianza con l'altro segno. Lo ripeto, se ho una funzione che converge a un limite non nullo, allora esiste almeno un intorno di x con 0 dove la funzione prende lo stesso segno del suo limite. Se il limite è positivo, la funzione è positiva, se il limite è negativo, la funzione è negativa. Questo si dimostra direttamente utilizzando la definizione divinica. Basta che dalla definizione si arriva a questa diseguaglianza, basta che Epsilon sia sufficientemente piccolo, e se L è positivo, questo numero è positivo, quindi f di x ha lo stesso segno di L. Se L è negativo ed Epsilon in valore assoluto è più piccolo di L, questo numero è negativo e quindi f ha lo stesso segno di L che è negativo. Ok? Attenzione al teorema inverso. Vale anche il teorema inverso che dice che se, sempre nell'ipotesi che una funzione sia convergente, cioè se esiste il limite di f di x per x che tende a x con 0 e vale L, allora se, qui prima facciamo ipotesi sul segno del limite, adesso facciamo un'ipotesi sul segno della funzione, appunto si tratta del teorema inverso. Se c'è almeno un intorno di x con 0, escluso x con 0 all'interno del dominio in cui la funzione è positiva, cioè se ho tutto un intorno di x con 0 dove la funzione ad esempio segno più, allora il limite L non può essere negativo, potrebbe essere positivo o nullo. Allora, ripeto, sì. Teorema inverso del precedente. Il precedente cosa diceva? Se il limite è positivo, allora è positiva anche la funzione in un intorno di x con 0. Teorema inverso. Se la funzione è positiva in un intorno di x con 0, allora il limite, e converge a un limite finito, il limite non può essere negativo, che potrebbe essere positivo o nullo. Attenzione a questo maggiore o uguale a 0. Qui è abbastanza semplice di mostrarlo perché se fosse falso questo contraddiremo il teorema diretto alla parte precedente. Se avremo un caso in cui ho un limite di un segno, la funzione è un intorno del segno opposto. Quindi se la funzione è positiva, il limite non può essere, se non positivo o nullo, non può essere negativo. Anche questo lo useremo nello studio dei segni di particolari limiti che ci vediamo tra poco e che sono le derivate per studiare la monotonia delle funzioni. Ok? Quindi, ripeto, oggi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il teorema del confronto che permette di calcolare limiti di funzioni che siano, tra virgolette, vincolabili da due altre funzioni di cui conosco il limite. Se conosco il limite di G e il limite di H e vale questa diseguaglianza, allora anche la funzione S, compresa tra G e H, se G e H convergono a L, converge lo stesso limite L. Il teorema del confronto. Questo grafico potrebbe essere utile a chiarire il concetto. Un caso in cui questo si applica è il caso del limite notevole sen x su x. Si costruisce una particolare diseguaglianza sfruttando la definizione di angoli radianti e di seno e di tangente. Ok? Si arriva a confrontare tre funzioni nell'intorno di zero. Una è la costante 1, l'altra è quella che ci interessa, x su sen x e poi abbiamo 1 su cos x. Quelli a sinistra e quelli a destra sono entrambi convergenti per x che tende a zero, quindi il teorema ci permette di dire che anche x su sen x non può che convergere allo stesso limite che è 1. Questo è quindi un caso di forme determinate che si risolve con un particolare teorema. Non si può scomporre in fattori sen x perché non è una funzione algebrica. Ok? Ovviamente x su sen x o sen x su x hanno lo stesso limite visto che è 1. L'inverso di 1 è comunque 1. Questo l'abbiamo applicato per calcolare l'area del cerchio frammentandolo, scomponendolo o suddividendolo se preferito in tanti piccoli triangoli isosceli. Metodo di esaustione, cioè abbiamo approssimato il cerchio con un poligono regolare in scritto. Funziona anche se il limite, se il poligono è circoscritto per il modo del tutto analogo. Abbiamo mostrato che possiamo calcolare l'area del cerchio aumentando il numero di lati al infinito, facendo diverso il numero di lati, che in quel caso l'area del poligono in scritto converge e il valore a cui converge è proprio più greco R, la seconda che si può sicuramente avrete già visto anche le medie volendo come area della circonferenza e del cerchio, scusate. Poi abbiamo visto altri due teoremi, quello di unicità e di permanenza del segno. Se il limite esiste ed è unico e se il limite ha un certo segno, positivo o negativo, allora esiste almeno un intorno in cui la funzione ha il segno del limite, viceversa se la funzione ha un certo intorno, almeno un intorno di x con 0 ha un segno, il limite non può avere segno diverso della funzione, o lo stesso segno o è nulla. Ok? Ci sono domande? certo. Vediamo se lo trovo, eccolo qua. Lo rivedo se vuoi. Premio inverso afferma che se ho una funzione convergente, quindi se vale questa scritta il limite di f di x per x che tende a x con 0 vale l, ok? E se esiste almeno un intorno di x con 0, escluso x con 0 all'interno del dominio, ovviamente per calcolare la f di x, in cui la funzione ha un determinato segno, per esempio positivo, allora il limite non può avere che non lo stesso segno oppure al massimo essere nulla. Faccio un esempio, forse graficamente o si vede bene. Immagina di avere una funzione di questo tipo. Abbiamo il nostro x con 0, immagina proprio una parabola, ecco, la funzione è un po' più semplice di tutte. Ecco qui, nell'intorno di x con 0, escluso x con 0, la funzione è sempre positiva, ok? Quindi, nell'intorno di x con 0 ho che f di x è maggiore di 0, ma il limite per x che tende a x con 0 di f di x vale 0. In questo punto la funzione si annulla, questo è il vero, ci sta una parabola tangente all'asse dell'x, ok? Quindi, se la funzione ha un determinato segno nell'intorno di x con 0, il limite può avere o quel segno o il male che vada a valore nullo, non può essere negativo, ok? se invece avesse una funzione tutta positiva, infatti, se la parabola fosse di questo tipo, il limite sarebbe questo, cioè l, in quel caso la funzione all'intorno di x con 0 è positiva, è sempre positiva e il limite è positivo. Quindi il limite? No, non può essere negativo, o è positivo o è nullo. Questo lo applico se la funzione ovviamente ha un determinato segno, se è una funzione oscillante, questo non posso dirlo, sia positiva che negativa, questo non si può dire nulla. Ok? Altre domande? Sì, bene. Allora, per oggi ci fermiamo qua.